Ciao e bentornati a Crochet Romance! In questo video vediamo come realizzare questo sacco nanna all'uncinetto. Il modello è molto facile e veloce da realizzare, adatto anche per principianti. Per realizzarlo ci serviranno tre gommitoli del filato Baby Neve di Silk by Arvie e la colorazione è il numero 570, rosso. Inoltre ci serve un gommitolo del filato Bimbo Wool di 3 sfere, colore verde 21. Di questi due filati ci avanzerà ancora qualcosina e con l'avanzo potremo andare a realizzare il cappellino abbinato. Per il cappellino ho preparato un altro tutorial e per trovarlo vi lascio il link nell'info box. Di entrambi i filati mi sono avanzati ancora un pochino di metri di filo e creerò in futuro un tutorial per realizzare un dudù a forma di fragola da abbinare a questo set. Spero che vi piace l'idea del sacco nanna fragoloso e così passiamo adesso subito al tutorial. L'uncinetto che ho usato è il numero 3,5. Il set che ho realizzato va bene per una taglia da 3 mesi. Se volete realizzare delle taglie più grandi vi basterà aumentare il numero di giri di aumenti, quindi allargare il sacco nanna o il cappellino e lavorare più righe per allungare i vostri lavori. Vi ricordo che tutti i filati necessari per questo progetto sono disponibili nel mio negozio www.filatiromance.com e trovate il link nell'info box. Inoltre vi ricordo che il tutorial è disponibile sia per mancini che per destrorsi, quindi se vi trovate nel video della mano sbagliata per voi, andate a vedere nell'info box per trovare il link al video giusto. Iniziamo la lavorazione facendo un anello magico. Se non sapete fare l'anello magico potete anche fare due catenelle e poi lavorare il primo giro nella prima catenella che avete fatto. Ok, chiudiamo come sempre l'anello magico con una maglia bassissima e poi iniziamo a lavorare il primo giro e facciamo 10 maglie alte in questo anello magico. Quindi la prima maglia alta in questa lavorazione viene sempre sostituita da 3 catenelle. Quindi facciamo 3 catenelle e 9 maglie alte. Quando abbiamo fatto l'ultima maglia alta stringiamo la codina per chiudere il nostro anello magico e ogni giro di questa lavorazione viene chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella. Poi ad ogni giro giriamo anche il lavoro. Per il secondo giro facciamo 3 catenelle, una maglia alta nella stessa maglia di base e poi lavoriamo un aumento sopra ogni punto quindi andremo a fare 2 maglie alte sopra ogni maglia alla fine del giro avremo 20 maglie alte quindi in ogni maglia alta lavoriamo 2 punti alti chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella voltiamo il lavoro e lavoriamo il prossimo giro nel prossimo giro lavoreremo sempre una maglia alta e nel prossimo punto un aumento quindi iniziamo con 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta e poi lavoriamo nel seguente punto un aumento quindi 2 maglie alte nello stesso punto ora ripetiamo una maglia alta nel punto seguente un aumento nel punto seguente e ripetiamo per tutto il giro alla fine del giro avremo 30 maglie per il quarto giro lavoriamo 2 maglie alte singole e poi un aumento 2 maglie alte singole e un aumento alla fine del giro avrete 40 maglie nel giro numero 5 lavoriamo 3 maglie alte singole e come sempre la prima maglia alta del giro è sostituita da 3 catenelle e poi facciamo un aumento quindi 1 2 3 e aumento e a fine giro avrete 50 maglie alte nel sesto giro andiamo a fare 4 maglie alte e poi 1 1 aumento e ripetiamo per tutto il giro 4 maglie alte un aumento e a fine giro avremo 60 punti nel giro numero 7 andremo a lavorare 5 maglie alte e un aumento e a fine giro avremo 70 maglie alte nel giro numero 8 lavoriamo 6 maglie alte e poi un aumento e a fine giro avremo 80 maglie alte nel giro numero 9 lavoriamo 7 maglie alte e poi un aumento e a fine giro avremo 90 maglie alte per il giro numero 10 facciamo 8 maglie alte singole e poi un aumento e a fine giro avremo 100 maglie alte per il giro numero 10 facciamo 8 maglie alte singole e poi un aumento e a fine giro avremo 100 maglie alte e a fine giro avremo 110 maglie alte e poi un aumento e a fine giro avremo 120 maglie alte e poi un aumento e a fine giro avremo 120 maglie alte proseguiamo ora a lavorare giri di maglie alte senza più aumentare quindi semplicemente facendo una maglia alta in ogni maglia alta e ad ogni giro avremo quindi 120 punti fino a quando il nostro lavoro misura circa 46 cm partendo la misurazione dalla punta poi siamo pronti per lavorare il bordino con il verde quindi mi raccomando ad ogni fine giro girate il lavoro come abbiamo fatto anche qua nei giri di aumento per avere poi una linea bella dritta di unione dei giri iniziamo ora a lavorare il bordino e per fare ciò il primo giro è lavorato con il colore verde a maglie alte quindi una maglia alta in ogni maglia per il prossimo giro del bordino iniziamo come sempre con 3 catenelle e poi lavoriamo alternando una maglia alta in rilievo da davanti a una maglia alta in rilievo da dietro quindi una maglia alta in rilievo da davanti una maglia alta in rilievo da dietro una da davanti e una da dietro e ripetiamo per tutto il giro alla fine del giro ci ricordiamo di girare il lavoro e lavoriamo un altro giro ugualmente quindi 3 catenelle poi lavoriamo una maglia alta in rilievo da davanti e nella prossima una maglia alta in rilievo da dietro e proseguiamo per tutto il giro per il sacco nanna lavoriamo alla stessa maniera altri due giri e poi possiamo tagliare il filo perché il sacco nanna è terminato spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi invito ad iscrivervi al canale se è così e di lasciarmi un pollicino in su aspetto le vostre foto delle vostre creazioni dei vostri sacchi nanna e dei vostri capellini nel gruppo facebook uncinetto maglia e filati con crochet romanze e ci vediamo prossimamente con nuovi progetti ciao